Ci troviamo presso la sede dell'associazione Federica Alberguni Onlus e con noi abbiamo il papà di Federica, Maurizio, a quale chiediamo di illustrare un po' le iniziative che è stata portata avanti in questi giorni. Va bene, sì, buonasera a tutti. Diciamo così che noi chiudiamo questo 2013 con grandissima soddisfazione di quello che abbiamo fatto in quest'anno, soprattutto per quanto riguarda la raccolta di adesioni che siamo arrivati a 465 anche se il nostro scopo è quello di varia 500. Però, diciamo così, siamo arrivati a un obiettivo fondamentale, questo molto importante, che è quello di questa unità mobile che è andata proprio in, diciamo così, abbiamo risolto quella situazione. Quindi questa unità mobile c'è, esiste fisicamente, è situata in un centro sportivo qua di Albino. Adesso si tratta solo di fare queste procedure e siamo quasi a buon fine anche su questo, per l'autorizzazione di avere la possibilità di fare questo prelievo di sangue appunto per i futuri di un'autodimidolo e osso. Questo è una cosa molto importante che ci sta a cuore e sperando che nel più breve tempo possibile arrivi anche questa, diciamo, questa certificazione di questa possibilità di fare questo prelievo. Diciamo allora che manca, diciamo, l'aspetto burocratico. Esatto, manca proprio l'aspetto burocratico. Ci stanno seguendo molto bene dagli ospedali notibili Bergamo nel reparto di immunogenetica tramite il dottor Barcella che, diciamo, ci sta aiutando per tutte queste prassi burocratiche e, diciamo così, abbiamo già mandato una prima tranche di lettera all'ASL regionale per poi ci ritorneranno poi tutte queste richieste che abbiamo fatto per vedere se effettivamente c'è qualcosa da modificare o quant'altro. Di fatto al Bergoni, un fatto è certo, c'è stata un'ampia partecipazione a questa associazione. Sì, moltissimo. Io devo ringraziare soprattutto chi ci ha dato finanziariamente, diciamo così, i contributi per arrivare a questo obiettivo. La cittadinanza di Albino è stata e mi sta ancora facendo delle belle cose e mi sostegno in questo perché ci crede in quello che stiamo facendo. E poi, naturalmente, chi naturalmente crede nella nostra associazione ci sta aiutando in una maniera spaventosa. Grazie anche all'amministrazione, grazie alle società sportive, ai gruppi, ma di tutto. Non pensavo di avere tanti amici così e sono contentissimo di questo. C'è un po' il concorso di tutti. Di tutti, sì, sì, di tutti. Da singolo cittadino all'istituzione, alle società sportive, più alle banche, insomma tutti quegli enti pubblici e privati che naturalmente credono nel nostro progetto. Hanno creduto e adesso l'abbiamo realizzato. Un'ampia intervista con Maurizio Bergoni, Andrea Inonda, nel nostro settimanale Target, in programma nei prossimi giorni. Da Albino, linea allo studio.